bella raga siamo ritornati su minecraft dopo tutti questi video non potevo pubblicare un altro video di minecraft allora ora aspetta che vogliamo scherbarci qua che non mi gusta allora devo cercare una piccola pianurina andiamo a cercare un bel aspettate indovinate scrivetelo qua nei commenti un bel una bella coltivazione yes piccolo po di erba allora non mi sono preparato per la coltivazione scusatemi tanto devo andare a prendere a farmi una zappa zappa ecco qua una zappa ovviamente zappa in pietra allora con una zappa zappiamo qua 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 e mettiamo questi zappiamo qua qua zappiamo e poi qua prendiamo la pala e andiamo a prendere un secchio d'acqua se so dove sono i secchi se c'ho un secchio se mi posso fare un secchio beh diciamo che non me lo posso fare quando sei impreparato su minecraft ecco quando succede che sei impreparato su minecraft è una cosa non lo so cosa quando sei io mi gioco di nerd cioè devi stare 24 ore su 24 e non mi renderò facile facilmente ok prendiamo qua la pala e scendiamo ancora e ancora e ancora e ancora molto ma molto allora ok da qua la possiamo mettere allora mi sto per finire mi sto per finire la se io non mi facevo la spada un ferro guardate che potevo fermi vabbè ancora si vede qua no no vabbè qua non la mettiamo vediamo ora finisce ok ok qua si trova abbastanza ferro soprattutto quando c'è acqua quindi devo tappare ecco qua così si procedura ok e qua non si trova niente allora piccozza in ferro però me la devo rischiare me la devo rischiare raga uso la piccozza in ferro vabbè un po' si dovrà utilizzare non è che stiamo qua e non fa niente allora da qua cominciamo let's go senza pensarci qua perchè qua è un cazzo chiuso quante torce abbiamo utilizzato due torce ora tre perchè se erano tredici eh scusami allora devo rompere qua ah c'è sabbia quando c'è sabbia non è un po' eh sì essa è ha trovato il ferro e quanto è la vacca è la vacca è ancora continua ok la nostra miniera è fatta ora la continueremo qua non ci diamo ho visto che ho tutta questa chiudiamo tutto qua con la terra perchè non posso chiudere con la cosa come si dice non posso anzi facciamo così chi è che mi ecco già ah già ok spacchiamo sto blocchino e poi qua c'è l'essenzione di terra farò così così e basta e ora ci vediamo appena abbiamo cuociuto tutto andiamo qua a prendere un altro un altro secchellata e ne dobbiamo prendere un'altra un'altra secchellata e abbiamo finito la prima secchellata glielo ho dato aiuto soltanto qua per sbringare anzi l'ultima secchellata ragazzi in quei minuti spero che siete pazienti l'ultima secchellata quanti secchellati devo dare scusami ok no non glielo ho dato vabbè vabbè così ci abbiamo qua mi devo costruire una cesta mi costruisco questa cesta mi levo dalle bille qua ci costruisco qua qua mi levo queste cose inutili qua qua questi 5 di ferro me li vado a trasformare qua bella zio qua e va a fare un bagno però qua ora mettiamo 3 di ferro sarà buono 3 di ferro allora ci dobbiamo andare a zappare con la nostra zappetta 4 3 e 4 perché noi non ne abbiamo più di così e ora ci andiamo a zappare qua 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 e qua così ci costruiamo un bell'orto qua vediamo se troviamo qualche cosa ah primo semino andiamo qua secondo semino terzo semino quarto semino di andare a metterli questi 4 vediamo se 4 vediamo il primo lop un brawler un brawler e il brawler c'è 2 ne mancano 3 brawler vabbè la cosa è questa erba inutile si 3 brawler dai e come sul braw stars dai trovate un braw eeeh un altro brawlino questo però è un'abilità stellare e che fai dove dove tanti brawler dove 5 brawler non trovo una bella bilieta stellare un gadget posso trovare un gadget trovate un gadget ho pare che usi cheat cioè io dico un gadget trovate il gadget tipo un semino trovate il semino eccolo la cosa io non gli uso i cheat ve lo giuro lo giuro sotto un altro semino no non li prendo mi viziate così non voglio essere viziato ora andiamoci a creare una bella così le staccionate le staccionate sei staccionate sei staccionate buono buono due staccionate mi mancano raga raga due staccionate bella no zio no dai bro no disco dai bello zio dai bello dai zio dammi qualcosa dammi qualcosa ti prego dai zio dammi qualcosa appena l'abbiamo completato tutte le staccionate anche con qua bello così ci siamo fatti un bell'orto un bell'orto qua ammazziamo erporlo erporlo yes va bene aspettiamo che chiusiamo la porta pensavo che non ho fatto una porta ciao bella raga bella